Prima di proporvi l'oroscopo di novembre 2002 vorrei dare dei cenni sull'elite. L'elite nella cultura mesopotamica e babilonese era considerato un demone femminile. Successivamente nella cultura ebraica venne considerato un demone notturno pericolosissimo per i bambini maschi. A lei vengono dati dagli ebrei delle connotazioni estremamente negative come la lussuria, la stregoneria e l'adulterio. L'elite è considerata simbolo del male, venne cacciata dal paradiso per il fatto di rivendicare la parità con l'uomo. Ancora un certo tipo di astrologia la presenta come il lato oscuro della personalità, dell'ingoscio violento, l'erotismo estremo e le perversioni. Non dimentichiamo che è stata la prima donna che si ribella alla cultura maschile e così va vista all'interno di un tema natale. Passiamo ora all'oroscopo novembre 2022. Partiamo dall'ariete. L'ariete si deve fidare molto di più del suo istinto e delle sue energie, almeno per quanto riguarda il mese di novembre. Sono in arrivo ottime novità. Il toro. È arrivato il momento delle grandi scelte. Gemelli. Novembre. Un po' inquieto, un po' indeciso, qualche incomprensione, qualche incomprensione. Cancro. Dedicatevi ai progetti, ma non mettete di lato la famiglia e gli affetti. Il leone. Inizio del mese caratterizzato da nervosismo, da inquietudini. Il leone deve gestire meglio l'orgoglio. Vergine. Il segno della Vergine è nelle condizioni di gestire situazioni difficili e trovare le migliori soluzioni possibili. Bilancia. Bene dal punto di vista lavorativo, ma male nella gestione del denaro. Lo scorpione. Novembre. Vi regalerà occasioni importanti. Qualcuno potrebbe decidere di chiudere una relazione sentimentale che ormai non ha più senso di esistere. Sagittario. Un mese particolare. Fate il punto sulla vostra vita. Eliminate l'inutile e fate attenzione ai segnali che vi manda sia la vostra mente sia il vostro corpo. Il capricorno. Deve fare attenzione a evitare di non farsi capire. È un periodo un poco particolare, ma se riuscite a gestirlo bene, qualche bella gratificazione in arrivo. Acquario. Evitate la testardaggine. Non cercate in maniera assurda quali sono le soluzioni migliori e soprattutto rilassatevi. Siete molto stressati. Pesce. Sarete pimbanti come non mai. La voglia di mettervi in gioco è grande. Cercate di sapere cogliere l'attimo giusto, quello importante. Non vatevi a gestire dalle emozioni. Nei prossimi video vi parlerò della posizione di Lilith nei vari segni.